E buonasera ragazzi bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui come avrete detto dal titolo andremo a vedere insieme come completare la sfida del primo step di Corona del Tormento. Prima di iniziare però vi invito a guardare la guida che trovate nelle schede e nella outro se ancora non sapete come funziona il primo step del ride. Detto questo andiamo subito a vedere cosa riguarda la sfida. Questa è veramente molto semplice e si chiamerà benedizioni limitate. Come è facile intuire dal nome infatti questa sfida ci richiederà di ricevere le benedizioni della strega ovvero l'effetto che dovremmo ricevere all'interno del ride ma con una limitazione. Molto semplicemente a ricevere questo effetto dovranno essere massimo due persone. Se quindi nello svolgimento normale del primo step ci dividevamo in tre e tre, tre che prendevano la benevolenza e tre che andavano subito alla pulizia. In questo caso dovremmo dividerci in tre coppie. Una coppia entrerà all'inizio all'interno della pozza per prendere la benevolenza iniziale. Un'altra rimarrà intorno alla palla per fare pulizia. Mentre la terza sarà quella che dovrà scambiare la benevolenza con i primi due. Per semplicità infatti noi non abbiamo scambiato la benevolenza tra tutti i sei guardiani ma abbiamo scelto semplicemente quattro che si alternavano a due a due. In questo modo completarla è veramente molto facile perché ai due che non devono prendere la benevolenza basterà rimanere sempre fuori dalla palla centrale. Fatto ciò vi basterà solamente avere un attimo più di concentrazione per quanto riguarda la pulizia dei cavalieri essendo che siete in due a farla e non in tre. E per quanto riguarda invece i cristalli noi ci siamo divisi così. Come per lo svolgimento normale ci siamo divisi a coppie. Una per il cristallo di verde, una per il cristallo di rosso e una per il cristallo centrale. Quindi un guardiano con la benevolenza andrà a rosso e l'altro andrà a verde. Appena uno dei due avrà distrutto il suo cristallo dovrà correre subito al centro per fare anche questo. A parte questo piccolo particolare e lo squilibrio della pulizia che si dovrà svolgere non in due gruppi da tre ma in uno da quattro e in uno da due. Lo svolgimento è pressoché uguale. Detto questo per togliervi qualsiasi dubbio vi lascio il gameplay completo della sfida qui a seguito. Non c'è stato? Non c'è stato? Aspettate che cambiamo. Credo dovete cambiare. Sì sì ma veniamo a cambiare. Poi tutti dentro. Ci siamo? Vai. Ok. Ma ci sono tantissimi cavalieri. Sì ci sono un batto di cavalieri. Guardiano a te. Raga rimanete al centro della pozza. Poi già fai la pozza grande. Fate i cavalieri voi. C'è un cavaliere in mid raga. Eh sì vai dentro. Raga uno col buff. Uno col buff. Ok. Fate i cavalieri. 30. Adesso tocca cambiamo. 25. Ah 20 20. Fate il cavaliere al centro raga. 30. Eh qualcuno che ce l'ha. Raga cambiamo. Venite. 3. 3. 1. Vai. Vai. Poi la troppo appare da su. Adesso mi ha fatto cavaliere qua il centro. Ok cristalli. Cristalli in fra. Da qua dietro. Eh dove è che sta? Cà. Ma c'è il centro. Alla sfera. Alla sfera. Dicino a sfera. Ai 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 sono quasi morto. Ah presto lo tenere nemmeno veloce. Arrivo 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 arrivo. Dove? Ok. Ok. Ok entrate 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 entrate. Che sta il cavaliere. Entrate. Ok. In teoria. Fate il cavaliere se potete. Oh ma non spawnano questi orchi. Eh. Raga quando abbiamo finito gli orchi fate il cavaliere per favore che può. Ok. Ah i cristalli prima i cristalli. Sta al centro eh mi? Giù fra. Ok. Arrivo già. Ok bravo. Vai cambiamo. Cambiamo. Venita cambia. Ok. Ok. Sfere di luce. C'è la super già? Ok quanto lo dico io piazza? C'è la sfera. Sfere. Ma io ce l'ho per te la sfera. Tranquita. Ah eccola trovata in po'. Ok aspetta aspetta. Quando dovete cambiare? Vai falla. Falla. Tra cinque secondi cambiamo. Venite a cambiare. Venite a cambiare. Sono. Vai. Ok. Non ho munizionato la sfera. Ok. Fate bene i cavalieri raga. Quanto state di benedizione? Ok cristalli. Facce ne uno qua subito. Uno qua subito. Uno con. Ok vai. A verde dove è? Ci non spawn. Quella verde dove è? Ci sono io con. Ami? Quella verde? Io non lo vedo. Non so se l'abbiamo fatta. Sì sì. Vaga la verde? La verde l'abbiamo fatta? Ok. E quanto state? Adesso dobbiamo cambiare. Somma 10. Ok. Venite a cambiare. Ok. No aspetta aspetta aspetta. Fate i cavalieri raga. Orchi. Eh niente. Non si è sficidato. Arrestatelo. Arquanto potete. Prima facciamo gli orchi poi arrestatelo. Dai da cazzo ma non ha un cavaliere guardate. Ma non ha una caglia. All'esterno? No non è il cavaliere ha detto. Cristalli. Quanto è rimasto? Eh in fondo Ami. Rispetto. Ok. Arrivo. Fatto di tutti. Fatto mid. Ok 19. Venite a cambiare. Venite a cambiare. Ci siamo? Ok. Aspetta aspetta. Mi finisce. Sono quattro no? Si si è l'ultimo questo. Quattro. Aspetta già aspetta. Ciao. Ciao. Che ha mangiato? Eh poi te lo dico. Vai falla. Fati i cavalieri. Quanto è stato che vi è in elezione? 30. Ok. Cambiamo ora. Vai venite a cambiare. Ci siete? Ok. No no. Fate gli schiavi al centro. Questa ho spawnato i cristalli? No no. Ancora no. Non ho spawnato. Adesso cristallo qua al centro. Sparate per favore. Uno senza. Uno senza che spara al centro. Ok. Ami dov'è? E' qua vai Ami. A verde. Ok ci siamo. Fatto. Vai. 28. Venite a cambiare venite a cambiare venite a cambiare venite a cambiare. Allora pulite i cavalieri. Allora aspetta aspetta la facciamo. Piena arriva negli orchi. Vai. Ok i cristalli mo. Facciamo. Fate i cristalli. Dove è Ami? Ok qua. Al centro 1 con. Al centro 1 con. Al centro 1 con raga ok. Vai cambiamo abbiamo finito. Cambiamo abbiamo finito. Venite a cambiare venite a cambiare. Va bene finito puliamo. Aspetta. Non lo so è andato troppo bene secondo me non l'abbiamo fatta la sfida. Non l'ha mai data fallita quindi sì. Eh non lo so eh sicuro eh. Ma dove si è cambiato? Cambiamo vita cambiamo. Che c'è? Sì sfida è grande. No. Ah sì me lo li vedete. Io sono Gaud. E la tua luce. E' mia. Grazie a tutti